Si sono fatti prestare i soldi per comprare i primi attrezzi, progettato e realizzato la serra e la recinzione del piccolo terreno di proprietà di alcuni amici a Civita Castellana nel Viterbese e fatto arrivare l'acqua per avviare le prime coltivazioni, tutte rigorosamente biologiche. Adolfo, Francesco e Mattia in tre non raggiungono 90 anni. La loro azienda agricola si chiama Orto Bio e i sorrisi che si scambiano quando raccolgono i prodotti del loro lavoro ripagano di gran lunga sudore, qualche inesperienza e soprattutto la frustrazione di un lavoro che non c'era. Io ero un po' nel campo dell'edilizia, lui faceva qualche lavoro da ceramista saltuario, barista, cameriere, insomma quello che c'era da fare. Poi chiaramente è arrivata la disoccupazione, avevamo un pezzetto di terra e abbiamo deciso di mettere insieme le energie e tirare fuori qualcosa. Pomodori, zucchine, cipolle, frutta e anche prodotti tipici tradizionali dimenticati dall'agricoltura moderna venduti quotidianamente al pubblico in un gazebo che montano ogni mattina di buon'ora nella frazione di sassacci. I clienti non mancano e le mansioni sono equamente distribuite. Mattia prima lavorava in fabbrica, poi è stato licenziato. Si siamo messi a fare questa esperienza nuova, non avevamo mai preso la zappa in mano, quindi tra le varie difficoltà e vicissitudini, errori vari, stiamo cercando insomma di guadagnarci da vivere. Lavorare nell'orto significa tanta fatica, sudore ma anche grosse soddisfazioni perché quello che semini, come si dice, si raccoglie e la terra è sempre qualcosa di magnifico, è sempre qualcosa da imparare da lei. Una storia che nasce nelle pieghe di una crisi economica contro cui si può lottare, attraverso l'intraprendenza, la voglia di rimettersi in gioco e quei valori che proprio le difficoltà economiche sembrano disinnescare. È nato questo rapporto con la terra e anche fra di noi insomma che è qualcosa di completamente nuovo e diverso da tutto il mondo del lavoro che si conosceva prima.